Il nuovo cambio di catena Il nuovo cambio di catena Il campione giovanile in carica in Vasca Corta in questa gara Mentre in Vasca Lunga Roma è stato secondo sempre nei 200 rana E ha aggiunto alle due medaglie nei due rana anche un bronzo nei 200 misti Sempre allo stadio del nuoto di Riccione in Vasca Corta E ha i criteri a 200 misti che sono nella prima giornata Attenzione però c'è un annuncio squalifica relativo alla batteria precedente L'atleta che ha nuotato in corsia 6 Tommaso Alba Città Sport Vicenza è stato squalificato per falsa partenza Edo Bressan season best a Genova La sciorba Nicosapio 10 di novembre Due sedici e novantacinque Ha nuotato nelle batterie in quell'occasione 34 e 75 I suoi terzi 50 metri Potrebbe già arrivare questa mattina se non rallenta nel finale Edoardo Bressan Il record è due diciotto e novantanove Di Tobias Valdi Chiude in due quindici e trentacinque Fa meglio di Genova E quindi arriva anche il suo migliore stagionale Quindi primato season best due quindici e trentacinque Edo Bressan Dylan Bonaguro due ventuno e ottantadue Daniel Zamattio due ventidue e ottantanove Si prosegue con la prima batteria dei Durana Assolute